Sì, è l'essenza della nostra filosofia perché l'innovazione è a base del nostro successo in un mercato globale, molto competitivo, in cui mantenere superiorità tecnologica e quindi alto know-how è importante. Per questo gli investimenti che passiamo ogni anno, passicci, e soprattutto questo ponte verso i giovani, perché c'è bisogno anche di avere giovani generazioni. Nel mio modo di vedere si crea fino a 30-35 anni, quindi l'ardo a questi per poter esprimere le migliori idee, così come abbiamo visto oggi. Grazie.